A Santa Marina la maggioranza del sindaco Giovanni Fortunato è andata a rispolverare una circolare dell'Inps del 2014 per tentare di mandare via il consigliere di minoranza Salvatore Tagliaferri dal Palazzo Municipale. Il 30 dicembre torna in aula il riconoscimento della causa di incompatibilità del giovane esponente del gruppo di opposizione. L'argomento era all'ordine del giorno della seduta del 7 ottobre scorso. In aula non arrivarono i documenti che spiegavano le ragioni dell'ipotetica incompatibilità e l'argomento, per decisione del sindaco, fu anche rinviato alla seduta successiva che nel frattempo si è tenuta e all'ordine del giorno mancava la questione Tagliaferri. Quest'ultimo, sentendosi diffamato, ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Lago Negro contro il sindaco. Sembrava che la questione fosse finita lì, invece venerdì prossimo sarà portata nuovamente all'attenzione del Consiglio Comunale. La novità rispetto alla precedente seduta è che questa volta in municipio sono stati depositati gli atti in base ai quali la maggioranza vuole dimostrare che Tagliaferri non può svolgere l'incarico che gli è stato affidato dagli elettori. Secondo l'amministrazione Fortunato, non può sedere in Consiglio per due motivi. Perché nell'agosto scorso ha votato contro la nomina della Commissione per il Paisaggio e perché è figlio di un dipendente dell'Inps in servizio a Sapri. Per quanto riguarda il primo aspetto, Tagliaferri chiarisce che ad opporsi alla nomina della Commissione del Paisaggio furono anche gli altri consiglieri di minoranza, non comprendo come mai solo io sia incompatibile. Questo dimostra ancora una volta che l'unico obiettivo di Fortunato è di colpire la famiglia che rappresento, che negli ultimi anni gli ha dato filo da torcere. Di fatti, Salvatore Tagliaferri è figlio di Michele, consigliere di minoranza fino alla precedente tornata elettorale ed è un dipendente dell'Inps. È qui che entra in ballo l'altra causa di incompatibilità accertata dalla maggioranza. In virtù di una circolare dell'Istituto di Previdenza Sociale del 2014, c'è un conflitto di interesse tra il dipendente che svolge incarichi politici e l'Inps. Stessa cosa vale per i suoi parenti fino al secondo grado. Per questo motivo, il dipendente interessato dall'ipotesi di conflitto, precisa la circolare, deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio ed astenersi dalla trattazione di questioni o pratiche che riguardano gli elettori o i soggetti che collaborano per lo svolgimento del mandato. Nel rispetto di questa disposizione, Tagliaferri Senior nel 2014 si è fatto esonerare da tutto ciò che riguarda il comune di Santa Marina. Nella seduta di venerdì si saprà cosa avrà da dire la maggioranza al riguardo. È chiaro però che se darà avvio alla procedura per il riconoscimento della causa di incompatibilità, scatterà un altro ricorso da parte del consigliere di minoranza. L'Assemblea è stata convocata alle 9, la seconda convocazione è fissata alle 16.